Fantastomondici, vi porto con me in una pausa tra una sessione di registrazione e l'altra per dirvi buon anno, grazie per essere 202 Fantastomondici, grazie, grazie, grazie. Allora, mi sono pensato per tutta la mattina che cosa, che regalo farvi. Quindi ho provato a fare un video, ho provato a farne un altro, non ero, non ero convinto, questo è troppo da youtuber, lo facciamo un giorno quando siamo veramente degli youtuber, perché adesso sono solo un pirla che ogni tanto registra qualche audiolibro e cerca di farlo al meglio possibile, ecco, vi metto sul treppiede, vi sistemo bene, mi fate compagnia durante questa sigaretta. Allora, ho pensato, l'altra volta vi ho fatto, vi ho regalato una poesia per i 100. Ho pensato per i 200, vorrei fare un qualcosina di più. Quindi invece di leggere, recito. E questa poesia, questa volta ha un perché, ha un perché, non vi spiegherò nel dettaglio. Mi sono trovato di recente a discutere con uno youtuber storico, è stata una discussione che mi ha stimolato varie riflessioni che mi hanno portato a decidere di fare un video che è per i voi e il me del futuro, ispirandomi anche ai video che fa molto spesso Ariane Rednick, Kalel, spesso parla al Sede del Futuro, ne ha fatto anche in questi giorni un video di questi. Un video da riguardare quando e se si crescerà. Ovviamente ringraziandovi in anticipo, perché se succederà sarà grazie a voi, ragazzi. Quando e se succederà riguarderò questo video ogni tot per ricordarmi come non voglio essere. C'è una bellissima poesia che viene da una raccolta che si chiama Gnosi delle Fansole di Fosco Maraini, un cavallo di battaglia di Gigi Proietti, tanti la conoscono per la sua recitazione di questo pezzo. Il lunfo, il lunfo, quando lo ascoltiamo sappiamo benissimo chi è. YouTube, secondo me, è piena di lunfi. E allora adesso vi dico che cos'è il lunfo e vi chiedo, per favore, ragazzi, se mi aiuterete, se vorrete aiutarmi a crescere un giorno, ricordatemi anche voi. o meglio, ditemelo, ditemelo, se secondo voi sono diventato un lunfo. Io non voglio mai essere un lunfo perché, vedete, il lunfo non va terca, ne gluisce, e molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego a bisce bisce sdilenca un poco e ignagio s'archipatta. È frusco il lunfo, è pieno di lupigna, arrafferia, malversa e sofolenta, se ciuffi ti sbituglia e t'arropigna, se l'ugri ti botalla e ti criventa. Eppure, il vecchio lunfo a margelluto che bete, giugna e fonca nei trombazzi fa legica abusia e fa gisbuto e quasi quasi in segno di smerdazzi gli affarferisti un nifo. Ma lui, zuto, talloppa, ti sbernecchia e tu la cazzi. Grazie.